È accaduto solamente da pochi minuti, un evento tragico e a dir poco incredibile. I soccorsi si sono trovati davanti ad uno scenario a dir poco apocalittico. Questo è Italian Reporter 24 il tuo canale di informazione, cronaca e approfondimento. Martedì 3 ottobre, attorno alle 19.50, un pullman di linea, carico di passeggeri, è precipitato dal cavalcavia Libertà di Mestre. Si avete capito bene precipitato dal cavalcavia. Questo tragico incidente ha avuto conseguenze devastanti. Il veicolo è finito sul sedime ferroviario accanto alla strada principale, e secondo la prefettura di Venezia, ci sono stati almeno 21 morti e 12 feriti. È una tragedia che ha sconvolto tutti noi. Ma cosa è successo subito dopo l'incidente? Un passante ha ripreso un video che mostra la scena del disastro. Nel filmato, il pullman sembra essersi ribaltato e ha preso fuoco poco dopo l'impatto. Una densa colonna di fumo si alza dal veicolo, e alcune persone sono chinate come se stessero cercando di capire cosa fosse successo. Non è chiaro se si tratti di soccorritori già arrivati sul posto o di persone sopravvissute alla caduta. È un momento davvero impressionante. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha espresso la sua preoccupazione e ha detto che sta seguendo costantemente gli aggiornamenti su questa drammatica situazione. Le prime parole di un vigile del fuoco che si è allontanato per qualche minuto dalla zona delle operazioni di recupero. Ci sono tanti morti. Troppi, ha detto. È una situazione davvero grave. Anche la premier Giorgia Meloni ha espresso il suo cordoglio per questa tragedia e ha messo in contatto con le autorità locali per seguire gli sviluppi. L'USL3 di Venezia ha attivato il protocollo delle grandi emergenze per affrontare questa situazione. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti su questa tragica situazione.